posticino nuovo siamo giunti in quelli della betone e stiamo prendendo una via a caso il sentiero bo ma sembra anche bellino facile ragazzi giovani atleti non c'è nessuno più caro non è abbattuto difficile via è impegnativo questo percorso direzione libero aperto dal cartello da due ore in un'ora in quarto un'ora e venti al massimo saremo sul libro aperto qui è tutto abbastanza assolato ma mi sono portata tre litri d'acqua un litro e mezzo piena di sali bombe droghe l'altro litro un po per rinfrescarmi sale 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 poi anche al sole quando è caldo e si dura fatica gonfia a betone è faticoso ma merita merita tanto per il faticoso soprattutto al sole è faticoso è faticoso è faticoso siamo sul libro aperto ci siamo arrivati ma leggete vai gira pagina wow è stupendo fidati della Martinelli che non si è mai persa è bello qui guarda c'è la presa dell'acqua non si sa mai potrebbe servire qui la gola che potrebbe sbucare qualche muflone qualche cervo ma qui ci sono i stambecchi i stambecchi i stambecchi i stambecchi ci hanno un becco li stambecchi in tremendo sono degli animali col becco oppure sono vecchi no oltre ad essere stan sono anche vecchi appunto stambecchi e stanno zitti io mi ho due cartelli che sei visto via proseguiamo dai dai che ho fame dai paulino dai da dove siamo partiti siamo tornati ciao ne ciao belli ciao belli ciao ciao